Riccardo Fogli e Milena Miconi al GF VIP, due vipponi varcano la porta rossa della casa. Riccardo Fogli e Milena Miconi sono due nuovi concorrenti del GF VIP. Il cantante 75enne e la Sugar 50enne. Dopo il periodo di quarantena obbligatorio, varcano finalmente la porta rossa della casa di Cinecittà. Ad entrare per prima è la ex prima donna del bagaglino, accolta con tanto calore dagli altri vipponi. L'ex componente dei Pum, invece, fa il suo ingresso poco dopo. Prima Signorini orchestra per lui un qualcosa di più particolare. Agli inquilini delle reality viene fatto credere che Fogli è un super ospite arrivato al GF VIP per fare un mini concerto per loro. In passerella, davanti a tutti, Riccardo canta i suoi cavalli di battaglia. Con la chitarra in mano si esibisce i vipponi lo applaudono. L'artista rivela a tutti di dover scappare per prendere un aereo insieme mogli e figlia per i Caraibi, dove trascorrerà il Natale. E tutta una boutade. Poco dopo Riccardo Fogli va a infoltire il gruppo già folto di concorrenti. All'Isola dei Famosi. Nel 2019, era stato tra i più apprezzati. Fogli è un vero esperto di reality, ha partecipato e vinto la prima edizione di Music Farm. Nel 2004 e ha programmi seriali come tale e quale show e il cantante mascherato. Fogli è un vero esperto di avere un po' di più apprezzati. Fogli è un po' di più apprezzati.